Nella produzione agricola molto spesso l'innovazione è la riscoperta della tradizione, in cucina in particolare. Uno di questi prodotti è sempre in carnia ed è il radic di Mont, la cicerbita alpina, è un radicchio che si raccoglie 20 giorni all'anno sui 1.400-1.500 metri, sulle zone di Slavina dove la neve ha fatto scoprire i terreni, sono terreni molto friabili e c'è questo radicchio che esce per i primi 20 giorni, è come un dito pollice, poi si ingrandisce, si alza, diventa amaro e non si può raccogliere. È una raccolta molto severamente controllata dalla legge perché altrimenti succederebbero degli sfracelli ecologici, sarebbe deturpato e perderemmo questa preziosità. E poi questo radicchio i nostri vecchi hanno fatto in maniera di conservarlo perché veniva e viene tuttora accompagnato a diverse pietanze, in particolare ai prodotti affumicati. Io vi leggo, appena appena facciamo un accenno di questa ricetta che poi troverete nel blog, nel testo che segue questa intervista e che è di una signora che è la mia preferita per quanto riguarda il radicchio di Mont, che è la signora Marisa Viti che abita a Caneva, che è proprio il paese dove poi tra l'altro abbiamo trovato anche il peperoncino. Marisa ha fatto anche un piccolo libricino di queste ricette, lei fa marmellate, lei fa confetture, sottoli, tutti di straordinaria bontà. Cito per non dimenticarmene, accanto al radicchio i bottons, i bottoni delle tale, del tarassaco che lei raccoglie e sono veramente croccanti, straordinari, ma vi leggo la ricetta, un riassunto, una sintesi della ricetta di Marisa. Un chilo di radicchio si usa del vino bianco secco, dell'aceto di vino, ma soprattutto accanto a un po' di peroncino di carnia. Marisa nasce in Toscana, anche se è carnica, porta dalla Toscana la cultura dell'olio extravergine d'oliva. La differenza del suo radicchio di mondo rispetto a tanti altri che si assaggiano è proprio la grande qualità dell'olio. Quindi lei fa bollire con l'aceto, quindi è un prodotto un po' ricorda un po' la giardiniera come gusto, magari un po' più morbido, poi viene asciugato, viene disposto su canovacci e si ripete l'operazione 3-4 giorni, poi si chiude il vaso, si mette l'olio e dura quanto volete. Ecco, è un prodotto che va molto bene con il prosciutto di Sauris, tra l'altro, che è il prosciutto fumicato, con i salumi, ma può essere messo assieme a prodotti tipo i caprini, certi formaggi delicati, ma anche mangiato da solo, perché ha un fascino e una qualità veramente straordinaria. Ogni volta che ho degli amici o degli ospiti a casa, do una fetta di prosciutto e tiro fuori questo vasetto di reddito di mondo, c'è sempre una grande sorpresa, una sorpresa molto molto giustificata.